Giochi spesso d'azzardo? Ti capita di giocare somme superiori a quello che ti puoi permettere? Torni a giocare nel tentativo di rifarti delle perdite? Nascondi agli altri la frequenza e l'entità delle giocate? Non riesci a smettere anche se vorresti? Se hai risposto sì ad alcune di queste domande, il gioco per te non è più un divertimento, ma sta diventando una dipendenza. Il gioco d'azzardo patologico è una malattia che si può curare.